Questa mattina il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, ha celebrato la messa nella solitudine della cripta del Duomo. Il Sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, ha voluto prenderne parte per dare un segnale di vicinanza a tutta la città. Monsignor Sanguinetti ha pregato per le vittime del coronavirus e per tutti noi, che stiamo affrontando una dura prova, sanitaria ma anche emotiva. Dopo la funzione, la benedizione a tutta la città, in una piazza vittoria vuota, ma carica di emozione, sotto la madonnina del broletto. La lampada votiva di San Siro, rimasta accesa per tutta la durata della messa, è stata riposta nell'urna alla fine della cerimonia. È stata una giornata particolare aver partecipato a questa messa a nome di tutta la città. Ti lascia abbastanza così, diciamo, con un'emozione molto forte. Il mio pensiero va a tutte le persone che ci hanno lasciato nella città. Io sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Io sia benedetto, benedetto il suo santo nome.